Si raccusa porto abusivo di armi commesso in Italia prima di essere stato espulso dal territorio nazionale. Un arresto. Nel pomeriggio di ieri agente della squadra mobile hanno eseguito un ordine di cancellazione messo dal Tribunale di Milano nei confronti di un egiziano di 31 anni. L'uomo dovrà espiare la pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di porto abusivo di armi commesso in Italia prima di essere stato espulso dal territorio nazionale. Lo stesso ha fatto rientro illegalmente insieme a un gruppo di connazionali sbarcati presso il porto commerciale di Augusta perché soccorso in mare da una imbarcazione della capitaneria di Porto. Dopo le incombenze di rite è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.